Ora ho fatto in modo di inviare per intero il video che avevo spezzettato, quindi ricominciando la seconda parte e dal punto, da un punto diciamo che vi avevo già inviato perché il video risultava troppo lungo e troppo pesante. Quindi vi ho mandato appunto già un video di tre minuti, non ho ancora avuto nessuna risposta per cui mi prendo la briga di inviarvi di nuovo questa presentazione di me stessa, questa volta senza la parrucca, con i miei capelli al naturale e volevo dirvi che appunto ci tengo a partecipare al programma perché sono una persona che ha molto da dire con una storia che può essere paragonata a un romanzo. Adesso posso sintetizzare dicendo che sono stata in India e quindi ho avuto un'ottima esperienza di Ajram, un'interessante esperienza da paragonare praticamente a un miracolo. Sono anni che giro l'Italia perché mio padre faceva un lavoro che lo faceva trasferire da una città all'altra. Inoltre sono musicista da quando ero bambina, cantautrice, mi dicono che sono una showgirl che quindi posso star bene sia come presentatrice che in un programma radiofonico. Infatti da bambina coniavo anche programmi radiofonici completi di sigla, di telefonate fuori, cioè fatte da fuori, sempre con la mia voce imitavo personaggi, poi mettevo appunto le canzoni come sia durante il programma che come sigla. Insomma, scusate, e in ogni modo la creatività mi ha accompagnato per tutta la vita. E sì, ci sono veramente tanti episodi da raccontare, una grandissima storia d'amore che ho vissuto in una situazione che mi ha fatto ritornare la fede in quanto le coincidenze erano tali da veramente da far pensare che ci fosse una regia superiore. Insomma, io ho intenzione di essere chiamata nel vostro programma. Di recente, appunto, come ho detto nell'altro video, ho fatto Ballando on the Road. Fra l'altro la mia figura è stata presa anche durante la sigla. La stessa cosa è capitata nelle tre giornate che ci sono state a Castrocardo, dove sono stata selezionata, e guarda caso hanno mandato in sigla proprio la mia giornata dove c'ero anch'io. Perché piaccio, vado in onda da tanti tanti anni, e poi vi dirò in quante situazioni. Ciao!